Secondo appuntamento stagionale con la Sprint Race che inizia con due giri di formazione. Salve a tutti e benvenuti su F1 ed intorni. Il via della garetta che sancisce le posizioni della gara di domenica è iniziata in maniera alquanto bizzarra. Al lancio del giro di formazione, quando le monoposto hanno lasciato la griglia di partenza, l'Alpine di Fernando Alonso è rimasta ferma sulla nona casella, sui cavalletti e ancora con le termocoperte sulle gomme. I meccanici hanno subito portato la vettura i-box, elettronica KO, tutto nero. L'affidabilità è ormai un vero e proprio tormento per Fernando Alonso e la sua Alpine. I tecnici, dopo aver provato con una batteria esterna, non hanno potuto fare altro che ritirare la macchina. Con questo fermo, la gara di Alonso è più che compromessa, poiché nonostante l'ottimo piazzamento in qualifica, in gara dovrà partire in ultima posizione. Ma al momento della formazione in griglia, in fondo al gruppo, l'Alfa Romeo di Guagnu Gio si è fermata a poche decine di metri dalla linea del traguardo e ha innescato un altro giro di formazione. Il pilota è poi riuscito a manovrare la macchina ed è partito dalla bitlane. Alla partenza, Max Verstappen, autore ieri di un ultimo giro straordinario che gli ha concesso di partire in prima piazza, è partito molto bene, ma è stato subito attaccato da Sainz che è riuscito a sopravvanzare il suo compagno di squadra Leclerc, che non è partito benissimo, ma lo spagnolo, due curve dopo, va a largo e viene ripassato da Leclerc. Al quinto giro, i due piloti della Ferrari hanno iniziato a lottare fra loro, con Sainz che sembrava averne di più ed ha attaccato Leclerc ripetutamente, senza però riuscire a stargli davanti fino alla fine. Questa battaglia ha fatto perdere del tempo prezioso alle rosse ed hanno fatto guadagnare un buon vantaggio a Verstappen che ha vinto a mani basse. La prima parte di gara abbiamo dovuto gestire, quindi è stato complicato, Max era molto veloce, ha spinto molto all'inizio. Io ho preferito gestire per avere più gomma alla fine. C'è stata però una breve battaglia con Carlos, ho dovuto forzare il ritmo anch'io, ci ha fatto perdere tempo. In certi momenti guadagnavo su di lui, ma il passo tra noi e la Red Bull era simile. Non so comunque se questo ci ha tolto la possibilità di vincere, difficile dirlo. La gara è domani, siamo competitivi e potremo sicuramente essere nella battaglia. Speriamo di riuscire a partire bene e di mettere più pressione su Max. Le considerazioni dello spagnolo Carlos Sainz, invece, non sembrano così pessimiste e afferma di essere partito bene e che ha avuto il suo da fare con Verstappen prima e con Leclerc dopo e che va bene così, è stato divertente come doveva essere, proprio come le gare devono essere. Poi ha aggiunto che forse ha surriscaldato un po' le gomme correndo dietro Leclerc, quindi in seguito ha dovuto alzare un po' il piede. Secondo il madrileno si può collaborare sfruttando le tre zone di RS per avvicinarsi a Max che è molto veloce e molto forte in partenza. Avranno bisogno di migliorare il passo, ma la gara sarà più lunga e avranno delle mescole diverse. Tutto può accadere. Ma chi ha beneficiato di tutto questo è senza dubbio il campione del mondo Max Verstappen che ammette che il passo fra Ferrari e Red Bull era lo stesso ed è riuscito a staccare le rosse proprio grazie al tempo perso fra i due nella lotta. Le gomme scelte dalla maggior parte dei piloti sono state le medie ad eccezione di Albon, Vettel, Stroll e Latifi che sono partiti con le dure. Sergio Perez che a causa della penalità ricevuta in qualifica recupera terreno sugli avversari e dalla tredicesima posizione si porta fino all'ottava. Male invece Hamilton che scende in undicesima posizione dopo una collisione con Gasly che si gira. Anche Vettel scatta benissimo e dall'ultimo posto guadagna sei posizioni arrivando a quattordicesimo. Perez ha continuato la sua rimonta fino a sorpassare le due As e l'Alpine di Ocon e Vettel invece commette un errore e va sulla ghiaia tornando di fatto in ultima posizione ma si è ritirato a due giri dalla fine. Molto bene le As con un ottimo Mick Schumacher che ha tenuto a bada la Mercedes di Hamilton per tanti giri che però ha ceduto a soli due giri dal termine arrivando nono. All'arrivo dietro a Max Verstappen sono arrivati Leclerc e Sainz e alle loro spalle Russell che mantiene la sua quarta posizione e Perez che è riuscito a raggiungere la quinta posizione. Chiudono la zona punti della Sprint Race, Ocon, Magnussen ed Hamilton e via via tutti gli altri. Se hai assistito fino a qui scrivi nei commenti Forza Ferrari e ci vediamo al prossimo video e non scordarti del like ed iscriverti al canale. Ciao!